Saluti dal Saludatore, grandissima sorpresa, vi trovo qui con un grandissimo via Sanremo, a casa Sanremo, Metroman! Saluta a voi, prima che ci arrestano dal Saludatore, contro ogni pronostico, ci vediamo davanti l'Aristo. Ecco, davanti all'Aristo, salutiamo tutti quanti i tuoi fan che ti seguono. E i tuoi, con la manina magica. Eccola qui, te la regalo perché te la meriti e la porterai in giro. Quando suoni, la manina del Saludatore e saluti tutti i tuoi fan. E schiaccia stop! E schiacciamo stop! E salutiamo l'amico bello bello, grande Federico Martelli. Ciao!